Domani associazioni e volontari insieme per riprendersi Punta Bianca, cosa farete? Allora domani andremo a pulire le spiagge di Punta Bianca e di Drasi, ma diciamo l'operazione domani è un'operazione che va molto al di là della semplice pulizia delle spiagge che come abbiamo fatto negli altri anni. Quest'anno per la rilevanza che ha avuto l'azione dell'esercito, per il fatto che abbiamo trovato l'accordo per sistemare le strade, per il fatto che ci sono tante associazioni che hanno collaborato con noi, il consorzio turistico che ha offerto una notte a coloro che ci daranno una mano di aiuto domani a pulire le spiagge, l'operazione è diventata molto più importante che la semplice pulizia delle spiagge. Un'iniziativa non solo di bonifica di Punta Bianca ma anche di valorizzazione del sito? Sì, Punta Bianca è una località bellissima che assomiglia molto a Scala dei Turchi e che porterà nel tempo altri turisti agrigenti e con tante cose da vedere il turista avrà motivo di pernottare qui da noi. Questa iniziativa è stata un'idea che ci è venuta per premiare chi da fuori vorrà venire ad Agrigento per aiutare i volontari. Una giornata passata insieme a noi a pulire la spiaggia di Punta Bianca è una bella esperienza anche da ricordare e da raccontare agli amici quando si torna a casa. In questo modo si genererà la voglia in parenti e amici che ascoltano di questa esperienza di venire qua da noi. Tra l'altro adesso la strada sterrata con i lavori che sono stati portati avanti dal genio militare è in condizioni ottime e si può raggiungere Punta Bianca con una certa facilità. Ho avuto un incontro con il sottosegretario alla difesa l'onorevole Giacchino Alfano e abbiamo raggiunto e ottenuto da parte del ministero della difesa una piena disponibilità a spostare questo sito. È necessario però per arrivare a questo risultato che sarebbe quello ottimale è necessario che si trovi un altro sito per le esercitazioni militari sul territorio siciliano. A riguardo dovrà essere la regione siciliana a farsi carico di individuare un altro sito e fatto questo da parte del ministero della difesa c'è la piena disponibilità a liberare contratti ad adrasi dalle esercitazioni militari. Valorizzare un tratto di costa del nostro litorale tra i più belli appunto che Agrigento abbia e far sì che invece che in un tratto di mare così bello si svolgano esercitazioni militari con tutti i danni che arrecano alla fauna e all'ambiente.